Mira Sofia, sento mirata, sento, sento mirata Sofia Buonasera amici di Volonbrite, bentrovati alla Salute in Comune Io sono Francesca e qui al mio fianco ci sono le ospiti di questa serata e passiamo alla loro presentazione Nome? Silvia Daniela Cognome? Magi Arena Età? Quasi 33 45 e mezzo Di che organizzazione fate parte? Io sono una fisioterapista e lavoro al CTO di Torino Anch'io sono una fisioterapista, lavoro al CTO e mi occupo di ustioni e cicatrici Tre aggettivi che descrivono il vostro carattere? Simpatica, socievole e molto permalosa Non tanto simpatica, poco socievole ma per niente permalosa Tre aggettivi che descrivono il vostro lavoro? Empatia, sensibilità e professionalità Pazienza, comprensione e buona volontà Il momento più bello del tuo percorso lavorativo? Entrare a far parte del CTO, dell'ospedale CTO Quando andrò in pensione? L'evento più bello e storico della tua organizzazione? Finora non ce ne sono stati Va bene Appena rientri dalle ferie per una settimana Cosa fai per il tuo benessere? Nulla, sono contro lo sport Ho comprato la Wii, ma la uso mia figlia E per la vostra salute? Nulla, non prendo neanche i farmaci che mi prescrivono Però va bene Cerco terapie alternative Allora, completate la frase Un percorso di riabilitazione significa? Accompagnare e supportare il paziente Durante tutto il programma riabilitativo Quindi fino alla fine Prendere per mano una persona E lavorare insieme Per arrivare al suo recupero A fino a quando lui o lei E' soddisfatto di quello che ha ottenuto Vi ringraziamo tantissimo E buona saluta a tutti Ciao, dalla salute in comune Grazie 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 Grazie